ciao ragazzi come state sono felicissima di trovarmi ancora qui con voi per continuare ad allenarci insieme spirito natalizio del resto il mese quello giusto quindi tutto in tema il rosso ci contraddistingue la nostra lezione di body squat iniziamo al riscaldamento easy spiegazione esercizio pronti accendo la musica non andate via come al solito buon divertimento e per chi non mi conoscesse sono sarà una trainer della top gym di zaco ed oggi ci alleniamo insieme pronti 3 2 1 si va faccio partire il timer in modo per non sforare e cominciamo respira e scendi ancora e scendi ancora scendi dammi l'ultimo e le mani e le ginocchia sali scendi sali a rotonda bene la schiena più che puoi sali 3 sali 2 sali l'ultimo lentamente a rotonda bene la schiena e vieni su cominciamo da qui circonduzione spalle indietro dammi le ampie per 4 3 2 e ruota ruota bene il busto rimani con il petto in fuori bella dritta con la schiena per 4 3 2 di nuovo circonduzione spalle indietro qui qui ancora ancora per 4 3 2 e ruota il busto qua ancora gli ultimi 4 3 2 distendi il braccio ora continuo mi raccomando a ruotare sempre bene le anche il ginocchio e il piede per 4 3 2 dall'inizio qui siamo solo in fase di mobilità porteremo il nostro cuore ad alzarsi lentamente prepareremo il nostro corpo per gli esercizi che dovremmo fare da bene 4 ancora 3 ancora ancora 2 l'ultimo braccio flesse ruota il busto ancora per 4 3 2 allunga il braccio ora ora oggi ho scelto una musica primale ragazzi per poter spingere al massimo il nostro regolamento 4 3 2 ragazzi le braccia in alto siamo sempre in rotazione con il busto 4 3 2 2 le spalle tutto da capo piano piano inizia a metterci un po' di gambe piano piano sempre molto lentamente 4 3 2 ruota qui 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 eheh ancora ancora per 4 3 2 distendi il braccio ora la spalla è bassa e rilassata gli ultimi 4 3 2 3 ragazzi in alto e si ruota il busto ancora ancora gli ultimi 4 3 2 ferma al centro solo le nostre braccia si distendono verso l'alto i gomiti vicino alla nostra testa saltamolo un po' qui ha ha ancora per 4 3 2 tutto dall'inizio circonduzione spalle indietro gli ultimi 4 3 2 le braccia ruota ruota ancora 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 per 4 3 2 indovina il braccio si allunga ha 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 ancora gli ultimissimi 4 3 2 insieme sali in alto su 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 ancora 4 3 2 e e frontali braccia al cielo salta bene un po' qui qui ancora 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 per 4 3 2 e stop iniziamo a scaldare lentamente le nostre gambe lentamente le nostre anche facciamo delle circonduzioni molto grandi ancora 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 tutta questa parte di mobilità ci aiuta solo a prevenire la possibilità di infortunio gli ultimissimi 4 3 2 dammi l'ultimo la gamba indietro tesa mi raccomando spingi bene le anche avanti il bacino avanti per 4 3 2 avanti basso appoggia anche la punta del piede avanti a te qui qui per 4 3 2 torna indietro distendi la gamba aprile anche spingi il bacino avanti per 4 3 2 portami un kick basso basso ancora ancora per 4 3 2 ragazze l'ultima volta indietro qui ancora poi ripetiamo la sequenza dall'inizio per 4 3 2 kick basso 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 ancora 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 per 4 3 2 tutto dall'inizio circonduzione indietro dalle spalle e gli ultimi 4 3 2 ragazze le braccia ferma e ruota il pulso qui ancora 4 3 2 distendi il braccio ora 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 ancora 4 3 2 portami in alto le braccia su su gli ultimissimi 4 3 2 ragazzi al centro su 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 ancora per 4 3 2 e le anche apri 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 ancora 4 3 2 le gambe indietro ora ora 4 3 2 avanti qui 4 4 3 2 piccolo jogging spingi le braccia avanti qui sollevami solo i palloni da terra ma resta con le punte in contatto 4 3 2 1 jumping jack su 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 mi raccomando le ginocchia esterne l'addome attivo gli ultimi 4 3 ah 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 ancora ancora per 4 3 2 il kick basso avanti 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 ancora ancora per 4 3 2 2 gli ultimissimi 4 3 2 e e run run le braccia in alto su 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 ancora 8 7 6 5 4 3 2 jumping jack su 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 4 e su 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 Due. Ehe. Uno. Split. Yeah. Su. 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 Ancora. Su. Su. Quattro. Tre. Due. La corda. Qui. Sposta il peso del corpo. Da destra a sinistra. Usa le braccia. Fermi male, fatti il movimento della corda. E ancora. Quattro. Tre. Due. Ragazzi. Apri. Scendi. Appoggia le mani. Rimani. E. Sali. E scendi. Appoggia le mani. Rimani. Ancora. Sali. Scendi. Appoggia. L'ultimo lento. Sali. Scendi. Appoggia. Sali. Corda. Qui. Qui. Ancora. Ancora. Per quattro. Tre. Iniziamo a costruire il nostro esercizio. Sali. Scendi. Scendi e sali. Appoggiando sempre le mani a terra. Cerca di piegare le gambe. Più che puoi in fase di discesa. Dammi le quattro. Tre. Due. e resta. Destra e sinistra. Mantieni. Quattro. Tre. Due. Torna a casa. Destra. Sinistra. La corda. Ancora. Per quattro. Tre. Due. Ancora. Gli ultimi. Quattro. Tre. Due. Andiamo a terra. Scendi. Destra. Sinistra. Quattro. Tre. Due. Torna a casa. Destra. Sinistra. Sali. Quattro. Tre. Più veloce. Qui. E sali. Su. La corda. Per quattro. Tre. Due. Ragazzi, ancora una volta. Scendi. Sali. Ancora. Scendi. Sali. L'ultimo. Scendi. Sali. E la corda. Quattro. Inizia a tirare un po' più sulle gambe. Tre. La stessa cosa, ma portiamo le gambe indietro contemporaneamente con un saltello. Scendi. Vai dietro. E torna a casa. La corda a ginocchia alte. Eh eh. Lo ripetiamo. Ora. Scendi. Vai dietro con un saltello. Torna a casa. La corda. Per quattro. Tre. Due. Ragazzi. Tempo. Qui. Subito giù. Qui. Subito giù. Qui. E la corda. Quattro. Ancora una piccola variante. Stiamo costruendo il nostro piccolo esercizio che sarà un bel penalty. Tornati in salto. Scendi. E sali. Scendi. E sali. Scendi. E sali. Scendi. E corda. E corda. Su. Su. Più alte le gambe. Più alte le gambe. Ancora. Ancora ancora. Manca l'ultima variante. E poi abbiamo costruito il nostro barpees. Per quattro. Andiamo. Con il petto. A terra. Ora. Scendi. Sali. Corda. Per quattro. Tre. Due. Ancora. Lento. Scendi. Appoggia. Sali. Su. La corda. Per quattro. Tre. Due. Ragazzi più veloce. Qui. Ancora. Dammi l'ultimo. La corda. Su. Su. Ma per renderlo davvero un barpees. Cosa manca? So che lo sai. E so già che ti stai mettendo le mani tra i capelli. Ragazzi. Manca il jump. Quindi mentre noi adesso facciamo la corda. Facciamo barpees completo. Con jump up finale. Ok? Per quattro. Tre. Due. Ora. Scendi. E salta. E ancora. 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 Gli ultimi. L'ultimo. E veloce. Lo skipper. Go. Tirami alto le ginocchia. Più su. So che puoi andare più su. Più alto. Più alto. Più alta. Abbiamo solo. Un ultimo giro da fare. Quattro. Tre. Tutto da capo. Qui. Quattro. Tre. Due. Ruota il busto. Qui. Quattro. Tre. Due. In alto. Su. Su. Quattro. Tre. Due. Al centro. Jump. 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 Distanti bene le braccia. Quattro. Tre. Ragazzi da qui. Subito in squat. Scendi. È un front squat. Il gomito rimane alto. Per quattro. Tre. Due. Split jack. Su. 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 Ancora ancora. Per quattro. Tre. Pronti per i barbis? Ora. Barbis. Ancora. 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 Dammi ancora. Perfetti. Ancora. 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 Gli ultimi. L'ultimo. E. Ragazzi lo skip. Go. 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 Ancora. 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 Per quattro. Tre. Due. Ok ragazzi. Abbiamo fatto la nostra fase di warm up. Siamo pronti per cominciare a lavorare sul serio. Fino adesso abbiamo giocato. Vi chiedo di. Se avete a disposizione due manubri o due dischi. Prenderli. Se non avete a disposizione manubri o dischi. No panic. Vanno benissimo due bottiglie di acqua a piede. Ok. Così il nostro workout con un sovraccarico diventa sicuramente più efficace. Quello che vi presenterò oggi è un four time penalty. Fatti di tre esercizi. Dove uno di questi sarà il nostro penalty inserito all'interno del VOD. Due esercizi. Ogni esercizio ha delle ripetizioni a scalare. Partiremo da dieci ripetizioni per arrivare a zero. Esempio. Primo round dieci ripetizioni il primo esercizio. Dieci il secondo. Secondo round nove nove. Terzo round otto otto. Così fino a scalare appunto ed arrivare a zero. Quando arriveremo a zero avremo finito il nostro lavoro di oggi. Quindi non vi darò un tempo di lavoro. Vi chiederò di essere il più performanti e il più veloci possibili. Io avrò un mio cup time che gestirò io ma che non vi comunicherò. Perché voglio che ognuno di voi dia veramente il massimo. E adesso andiamo a vedere i nostri primi due esercizi. Li abbiamo in realtà provati nella fase di riscaldamento. Ok? Quindi tutto molto semplice e accessibile davvero a tutti. Primo esercizio. Partiamo da dieci ripetizioni. Gomiti alti. Manubri o bottiglie dell'acqua o dischi appoggiati quasi alle nostre spalle. I gomiti restano fermi. Piedi in posizione di squat leggermente più ampi rispetto al nostro bacino con le punte vuotate all'esterno. Scendo i squat e salgo. Scendo e salgo. Per favore provatelo con me. Mi raccomando ragazzi quello che voglio vedere è che non perviate la curva lombare. E non scendetemi mai sotto al parallelo. Poi mi raccomando fondamentale. Ma ormai lo sapete meglio di me. Il ginocchio non deve mai oltrepassare la punta del nostro piede. Ok? Di questi ne dobbiamo fare dieci. Iniziamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, stop, dieci. Appena ho fatto il primo esercizio inizio subito con il secondo. Dalla stessa posizione slancio delle braccia verso l'alto. E' un press. Le gambe mi servono solo per dare una leggera spinta. Anche qui dieci ripetizioni. Ombelico in dentro. Bluteo stretto. Braccia belle distesse verso l'alto. Ok? Questo. Per altri dieci. Appena ho finito le dieci ripetizioni del primo e le dieci del secondo. Ricomincio subito il secondo round. Scalando di una ripetizione. Quindi nove e nove. E poi otto e otto. Come vi dicevo prima, fino ad arrivare a zero. C'è un però. C'è il terzo esercizio. Che è il nostro penalty. Ogni due minuti di lavoro. Che vi chiamerò io. Qualsiasi cosa voi stiate facendo. Smettete di farlo. E facciamo il nostro penalty. Cinque barbis. Scendo. Appoggio il petto a terra. Salgo e jump. Scendo. Appoggio il porto a terra. Salto e jump. Così per cinque volte. Finito questo? Ricomincio da dove mi ero fermata. Se stavo facendo il front squat. Finisco. Se stavo facendo il push press. Finisco. Ok? Il penalty verrà riproposto ogni due minuti di lavoro. Quando arrivate a zero avete finito? Super! Avete ultimato il vostro lavoro nel miglior tempo possibile. Fate un po' di stretching. La nostra lezione finisce così. E adesso? Pronti per cominciare? Belli grintosi. Belli carichi. Accendo la musica e si parte. Go! Due. Uno. Ragazzi. Partiamo! Buon divertimento. Mi raccomando. Dai il tuo meglio perché l'obiettivo è quello di finire il più velocemente possibile. 10 front squat, 10 push press e ogni 2 minuti 5 burpees. Io ho qui il mio bel cronometro. Vi chiamerò sempre burpees. Ma ora cominciamo. Ognuno vada con il suo ritmo. Mi raccomando. Nello squat. Mantieni per favore. La curva lombare attiva. E fai in modo che le tue ginocchia non oltrepassino mai la punta del piede. Ne sono 10. Finite questi 10. Spingo un push and press. Le gambe mi danno la spinta per traslare la porta dal basso verso l'alto. Ancora. Ancora. Fate 10 ripetizioni. Ragazzi. Passo a 9 front squat. Passo a 9 front squat. Bravissimi. Ancora, ancora, ancora. Ancora, ancora, ancora. Ancora, ancora, ancora. E poi 9 push and press. E poi 8 front squat. E ti dico che tra poco facciamo i primi 5 burpees. Non sarà un lunghissimo workout. Non sarà un lunghissimo workout. Perché io so che tu stai spingendo tantissimo. E quindi sarai velocissimo a finire il tuo lavoro. Però ti chiedo per favore di non perdere mai la tecnica. Ok? Quindi, non andare troppo veloce se vai a discapito della tecnica. Rallenta. Ma usami una buona tecnica sul front squat. Una buona tecnica sui back piece. Un'ottima tecnica sui push and press. E intanto tra 5. 5, 4, 3, 2, 1, back piece. 5, ancora. 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 Fatto 5. Qualsiasi cosa tu stessi facendo. Riprendi. E ricomincia. Ancora. 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 Vai, 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 vai. Ancora, ancora, ancora. Ancora, ancora, ancora. 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 Ancora, ancora, ancora. Ancora. Io ero già arrivata con la musica allo stretching finale, ragazzi. Perché so che sarei lì per finire. Mancano ancora pochi secondi prima di rifare il secondo round con i burpees. Pronto? Se qualcuno di voi ha finito il giro, provate a ricominciare ancora con lo stesso ritmo. So che è possibile, quindi fatelo. Cercate di farlo. E intanto, gli ultimi 5 secondi. E poi gli altri 5 burpees. Pronti? 4, 3, 2, 1. Ora. Su. Su. Fammi vedere. Fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere. Perfetto. Fatti 5. Ricomincia, continuo da dove eri. Se sei arrivato a zero. E abbiamo ancora un po' di margine di lavoro. Ti chiedo di ricominciare perché so che puoi farlo. Mantenendo sempre la stessa tecnica. Sempre la stessa intensità di lavoro. Bravissimi. Ancora, ancora, ancora. So che puoi dare molto di più. Lo so. E ti vedo. Quindi mi raccomando. Se sei stanco, non fermarti. Rallenta. Ma non fermarti. Finché il tempo non finisce. Ti chiedo di continuare lavorando, dando sempre la tua miglior performance. Ancora. Ancora. Intanto. Tra meno di un minuto. Abbiamo ancora 5 barpees. E vi voglio vedere saltare, esplodere verso l'alto. Ancora, ancora, ancora. Bravissimi. Ancora, 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 ancora. Ancora. Ricordati di andare a scalare nell'esecuzione. Ragazzi, 3, 2, 1, barpees, go! I piedi li voglio fuori dalle vostre mani. Non all'interno. In modo da andare a tutelare l'articolazione del genocchio. Fuori dalle vostre mani. Ah, ancora. Manca pochissimo. A finire il nostro workout. Manca poco, manca poco. Dai, dai, dai. So che tutti avete finito sicuramente il primo giro da 10 a 0. So che la maggior parte di voi staranno anche quasi per finire il secondo. E qui sono certa che tutti arriveremo a finire il secondo. Quindi non fermarti adesso. Non mollare proprio adesso. Ci dobbiamo preparare per le feste. Quindi dobbiamo darci dentro. Ma io vi conosco. So che lo fate. Io vi vedo. So che non vi fermate. Che quando torneremo tutti alla top gym di Inzago. Vi voglio in forma, eh. Belli come quando vi ho trovato a settembre. Mi raccomando. Ancora, ancora, ancora. 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 Vi dico che siamo entrati. Nell'ultimo minuto di lavoro. Ti chiedo di spingere. Ti chiedo di spingere. Adesso. Adesso. Adesso spingi. Non fermarti proprio adesso che sei arrivato alla fine. E ovviamente finiremo con 5 burpees. Sì. Come non chiudere in bellezza il nostro workout. Che oggi è stato breve. Breve ma intenso. E poi. Chi lo sa cosa succederà nei prossimi. Pronti? Ragazzi. Tra 5 secondi. Voglio vedervi fare gli ultimi 5 burpees. 3, 2, 1, ora 5 burpees. Dai, 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 dai. 4 burpees. Eh, eh. Siamo a 3. Non mollare adesso. 2, 1. Ragazzi. L'ultimo burpees. E stop. Ok. Bra-vi-si-mi. Facciamo 5 minuti di stretching. E poi vi lascio andare. Ok? Rimaniamo direttamente in piedi. Metto anche la musichetta. Ole. Mani dietro la nuca. Chiudi i gomiti. Scendolo on down. Resto un attimo giù. Porta bene il peso del corpo. Sulla parte anteriore delle punte dei tuoi piedi. In modo di andare ad allungare invece tutta la parte posteriore delle gambe. Mantieni ancora. Per 5, 4, 3, 2, 1. Lentamente. Una vertebra una volta. Sal. Apri i gomiti. E porti il bacino in avanti. Le mani sostengono il collo. Per 4, 3, 2, ripeti. Chiudi. E scendi. Lentamente. Allunga bene la parte posteriore. Per 4, 3, 2, lentamente. Sal. Srotola una vertebra alla volta. Apri. Bacino avanti. Per 4, 3, 2. Chiudi. Rilassa. Sciogli un attimo le spalle. Braccio. Sinistro. Passa sotto il mento. Rimani. 4, 3, 2, 1. Cambio. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Rilassa. Porta la gamba destra avanti. La gamba sinistra dietro. Andiamo in allungo del polpaccio. Mani appoggiate sulla coscia. Schiena completamente in scarico. 4, 3, 2, 1. In due tempi. Scivola lentamente a terra fino ad appoggiare la mano. Appoggiare il ginocchio. Libera la punta del piede. Sposta il corpo in avanti. Allunga. Per 4, 3, 2. Lentamente torna a salire. Sempre in due tempi. Appoggia la punta. E sposta il peso del corpo indietro. Allunghiamo l'altro polpaccio. Mano sulla punta del piede. Afferriamo e tiriamo verso di noi. Per 4, 3, 2. Lentamente ruota e appoggia la mano sull'altra gamba. Allunghiamo il polpaccio. Tallone a terra. 4, 3, 2. Lentamente in due tempi scendi. Appoggia. Resta lì prima che riporta la musica. Ferma lì. Mantieni la posizione. Per 4, 3, 2. Torna con la punta attiva. Sposta il peso del corpo. E andiamo ad allungare ancora una volta il polpaccio. E mantieni 4, mantieni 3, mantieni 2. Lentamente ruota il centro. E sali. La testa è l'ultima cosa che si solleva. Ok. Due grandi respiri. Butta fuori. L'ultimo grande respiro. Butta fuori. E... Noi ci vediamo prossimamente. Con un'altra lezione. Con One More Rap. E con la lezione di Flexibility. Per adesso, grazie per esserti allenato con me. Spero che tu ti sia divertito. Divertita. Sono certa che hai dato il massimo. Ci vediamo prestissimo. Buona giornata. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.